Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova video recensione del canale di Marcosbox. Quest'oggi voglio parlare di un software che molto probabilmente diverrà uno dei software più utilizzati dal sottoscritto. Ed è un software che va ad aiutarmi in una delle cose che faccio ultimamente per il blog, una delle operazioni che compio. Chi mi segue da tempo sa che ho iniziato a proporre la trascrizione delle puntate del podcast. Perché faccio la trascrizione? Perché mi è stato suggerito da alcuni utenti che avevano necessità di avere un testo scritto. Questo può essere d'aiuto sia per gli utenti che hanno problemi uditivi, ma anche per chi magari si trova più comodo a cercare le informazioni direttamente con il testo. Inizialmente la cosa mi era molto semplice quella di offrire la trascrizione perché mi preparavo un canovaccio che andavo a leggere e poi andavo a rifinire la trascrizione della puntata. Perché sapete bene, io divago sempre, anche se ho il testo scritto, non riesco a seguire il testo scritto senza divagare, come sto divagando in questo momento. Però, nelle ultime puntate del podcast di Marcosbox ho deciso di sperimentare un nuovo format, ovvero le video puntate del podcast. Le ultime tre puntate, se mi state seguendo qui, che è il 13 di febbraio, le ultime tre puntate del podcast di Marcosbox le trovate anche in forma video sul canale YouTube. E in questo caso, come fa il sottoscritto a offrire la trascrizione delle puntate del podcast? È un bel problema, è un bel problema perché appunto nelle puntate video io sto qui con la telecamera, accendo la telecamera, leggo con voi e commento con voi le notizie postate sul blog. Quindi non ho un canovaccio, quindi dovrei andare a trascrivere il tutto, che è una cosa che mi sta riuscendo difficile, perché ovviamente la vita chiama, ci sono gli impegni lavorativi e quant'altro. E infatti nelle ultime tre puntate del podcast di Marcosbox, quelle video, non ho potuto offrire una trascrizione della puntata. Però adesso finalmente ho trovato anzi un modo per metterci una pezza per facilitare il processo di trascrizione. E tutta questa fase di trascrizione adesso la delegherò a un software chiamato SpeechNote. Vi ho appena pubblicato un articolo sulle pagine del blog e come potete vedere SpeechNote è un software che serve a trascrivere e tradurre off-line i nostri appunti grazie al machine learning. È un software gratuito e open source e disponibile ovviamente per Linux ed consente di appoggiarsi a dei motori di speech-to-text e text-to-speech, ma anche di machine translation. E quindi ci consente di dialogare con la nostra voce, di registrare vocalmente qualche cosa e avere una trascrizione di quello che noi andiamo a dire. Ma ci consente anche di dargli in pasto un file audio e andare ad avere la trascrizione del file audio. Infine ci consente anche tramite il motore di traduzione del progetto Bergamot, quello che è stato integrato anche su Firefox, di avere anche la traduzione di quello che noi andiamo a dire. È un software che offre diversi motori di speech-to-text, come potete vedere, tra i quali c'è anche Whisper, che era uno dei motori di trascrizione che mi erano stati consigliati da alcuni di voi elettori quando ero nella fase di iniziare della trascrizione delle puntate del podcast. Se mi diceva di utilizzare Whisper, però Whisper, per poter utilizzare, c'erano alcuni tutorial online che dicevano di utilizzare mediante Google Drive, facendo degli scamotaggi in modo da sfruttare la potenza di calcolo di Google Drive. E c'erano anche altri software a pagamento che utilizzavano poi questi motori. Però sapete bene che io sono un pigrone per natura e sono un portatore sano del principio donistico, minimo sforzo, massimo risultato, quindi cercavo da tempo un software che potesse semplificarmi il tutto senza andarmi a complicare a mettere su macchine virtuali, server e quant'altro per fare la traduzione. E fortunatamente ho incontrato, ho incrociato questo software che è instagrabile, come potete vedere anche tramite in formato Flat Park e ha una particolarità interessante, ovvero quella di poter sfruttare anche la nostra GPU, sia Nvidia che AMD, per poter velocizzare il processo di trascrizione. Ma andiamo a vedere questo software come funziona e andiamo a vedere anche gli eventuali strafalcioni che va a fare. Qui potete vedere un'anteprima di una traduzione che ho fatto, scusate, una trascrizione che ho fatto di una delle puntate del podcast di Marcosbox. E devo dire che andando a leggere non noto particolari strafalcioni, quindi segno che il motore di traduzione che ho utilizzato, in questo caso ho utilizzato Faster Whisper Large V3, è buono e quindi si comporta bene nell'effettuare queste operazioni di trascrizione. Piccola premessa riguarda l'utilizzo di questo software. Il software di per sé pesa molto, pesa molto in termini di spazio occupato, soprattutto se poi dovete andare a installare a parte i vari moduli per le GPU. Ma quel che pesa in maniera, poi successivamente, dopo l'installazione del software, quel che pesa di più sono i vari motori di machine learning, che vengono utilizzati per effettuare le operazioni di trascrizione e quant'altro. Vi faccio vedere quali sono quelli che io ho testato. Allora, qui possiamo vedere che nel software è possibile selezionare innanzitutto quale lingo utilizzare. Qui ci sono tutti quanti i motori. Io ne ho scaricati diversi e come vi dicevo, quello che mi ha dato il maggior... diciamo così, che mi ha consigliato di effettuare la trascrizione a minor tempo, senza star a dar fastidio al PC, perché queste operazioni richiedono molte risorse sul PC, e questo qui, il Fast Whisper Large V3, che come potete vedere, solo questo, pesa 1,45 giga. Io l'ho installato in un casino ieri per provarlo e vedete questo, per esempio, che ti voglio dire? Quello, il Medium, il Medium, no, il Medium lo occupa di meno, è il Fast, che a me lo pare occupa di più. Ci sono tanti motori, questo 46 MB, questo è piccolino. Però, se iniziate a fare test, ricordatevi che dovete occupare un bel po' di spazio sul vostro disco. Poi vabbè, ovviamente, fatevi i vostri test, cercate il motore di Speech Text, che è quello che voi trovate più consono al vostro utilizzo, che vi consente di avere una migliore qualità nel minor tempo, senza dar fastidio al vostro PC, senza rubargli una caterpa di risorse, e lasciatevi soltanto quello. Magari gli atti li potete anche cancellare, quello che farò io poi successivamente, anche se devo provare altre due, devo capire bene se sono un po' più veloci. Ovviamente, vi dicevo che questo software non consente soltanto la trascrizione del testo, ma vi consente anche il Text-to-Speech. Ci sono diverse lingue che possiamo andare a installare. Sono circa ogni 300 MB ognuna, quindi andatevi a fare un po' i vostri conti. Sono voci maschili e femminili. E infine abbiamo il traduttore, che in questo caso è quello per tradurre dall'italiano all'inglese, e poi un'altra cosa che vi consiglio di andare a installare è quello per la punteggiatura, che vi aiuta, che sono un altro 1,05 GB, che vi aiuta nella trascrizione delle puntate, aiuta a prendere bene la punteggiatura di quello che dite. Facciamo adesso un attimo giro, vediamo un po' delle impostazioni, quelle che sono le impostazioni del software. Come potete vedere, possiamo leggermente personalizzare l'interfaccia utente. Qui la modalità di ascolto, dove possiamo dire, nello Speech-to-Text, utilizzare l'accelerazione GPU, l'abilità e l'ipissione della punteggiatura. Nel Text-to-Speech la stessa cosa, possiamo specificare su utilizzare l'accelerazione GPU. Qui sono le impostazioni per l'accessibilità per i comandi di scelta rapida. E qui dove andiamo a depositare la cache e delle opzioni per la CPU, quindi il numero di thread simultanei da utilizzare. Quindi possiamo lasciare su automatico, ma possiamo anche personalizzare, vogliamo utilizzare soltanto quattro a seconda della vostra CPU. Vabbè, lo sapete, non vi devo insegnare io queste cose. Queste sono le opzioni relativi alla scheda grafica, quindi vogliamo utilizzare NVIDIA CUDA, vogliamo utilizzare AMD e R-Con, se siamo su schede video AMD, e qui ci sono poi tutte quante la disponibilità delle funzioni opzionali che sono specificate per i vari motori di Text-to-Speech. Ma facciamo un esempio, andiamo a fare un esempio subito subito per andare a vedere come funziona. Vediamo, vediamo, andiamo, andiamo a prendere un file audio, andiamo a trascrivere una puntata dove ho messo il video, andiamo a prendere, che ne so, la 167, ops, ho fatto un casino, puliamo prima, ok, ho lasciato tutto, e poi tra prende se gli avevo dato anche in pasto un video, trascrivere un file, andiamo a dare il mp3, e il processo di trascrizione parte in automatico. Ovviamente, adesso sto registrando, quindi sto impegnando anche diverse risorse del computer, fra poco vedrete che inizierà a sputare fuori il testo che è noi, che lui è andato a riconoscere. Una volta fatto, sarà possibile copiare il nostro testo e incoglarcelo per essere utilizzato per quello che dobbiamo fare, se dobbiamo sbobinare delle lezioni dell'università, della scuola, o se dobbiamo, che ne so, andare a, nel mio caso, sbobinare qualche video che ci serve per qualche cosa. Ci sta mettendo un casino di tempo, magari mettiamo una pausa, vi faccio vedere un po' più avanti come funziona, come andando avanti. Ecco, no, quindi, ho iniziato a sputare il testo. Ovviamente, vi dicevo, dovete armarvi un po' di pazienza, perché tutto dipende dal vostro computer. Adesso stoppiamo la trascrizione, vediamo se il software risponde, ma dovrebbe rispondere. Ovviamente sto trovando dei bug in diretta, ci sta mettendo tempo per stopparsi, ma quello, sapete, è una delle mie feature principali, bugare il mondo. Io sono il balgatore definitivo. Non mettetemi mai avvicino a parecchiature con invio di missi nucleari, perché sono sicuro che manco mi avvicino. Partirebbero tutti in automatico. Che cosa sta succedendo? Mettiamo un ottimo in pausa, così vedo che cosa sta succedendo, perché si è leggermente frizzato. No, 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 no. No, no, sta andando. Sta andando, si è bloccato. Ah no, eccovi, vedete. Volevo essere solo ascoltato. Qui è possibile anche ascoltare il testo. Provare 1, 2, 3, provare. E qui sono stato smentito in diretta, perché il microfono sta scogregato. Ah no, ecco. Adesso sta facendo l'elaborazione di quello che ho detto, ma non dovrebbe prenderlo se sta facendo la registrazione. Ah no, invece l'ha preso. Perfetto. Sono stato smentito in diretta. Questa non l'avevo provata, chiedo scudo. Provo 1, 2, 3, prova. E qui sono stati smentiti in diretta, perché il microfono sta scogregato. Vedete, anche il parlato normale riesce a prenderlo in maniera semplice, in maniera efficace. Qui è possibile anche ascoltare quello che noi abbiamo detto, ma se mettiamo una voce che ne so, femminica. Vediamo il tempo di elaborare quello che sta dicendo. Che sta a scrivere, che l'ho scritto, scusa. Vediamo un po'. Diciamo che fare queste cose con... Amici del Sottare Libero, penso ucce. Benvenuti o bentornati in questa con un Grave City. Siamo in puntata del podcast di Marco Siglo. Quasi quasi vi faccio leggere a lei le puntate del podcast con questo modello. Dicevo che ha anche la funzione di traduzione. Andiamo a vedere la traduzione, quanto tempo ci impiega. Traduciamo quello che abbiamo appena trascritto. Ecco qui la traduzione del test. Ovviamente è un modello di traduzione che noi già troviamo, abbiamo apprezzato e un po' criticato su Firefox, però tutto sommato riesce a dare il senso della fase. Quindi non è un motore di traduzione ancora molto efficace, però funziona. Fa il suo, come dicono gli appassionati di un famoso canale YouTube dedicato agli orologi. Vi lascio scoprire a voi di quale canale si riferisce. Che dica. Meno male che esiste questo software. Io grazie a questo software provvederò adesso ad effettuare la trascrizione delle puntate video che trovate su Marcosbox. Magari mi rimetto anche di quelle precedenti, perché di quella dell'era pre-trascrizione. Vediamo se riesco a recuperare anche quelle passate, così da offrire un servizio più complito per tutti quanti. Che dire, ottimo software, spero che migliori sempre più e spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo in un prossimo video, ci rivediamo in una prossima puntata, sto mischiando che cosa, ma ci siamo capiti. Sapete dove trovarmi. Ciao ciao.